Fondere tutti gli elementi, cerchio Ifior attraverso Tuglia e Jan Doe to this, domanda. Proprio non ho capito, vuoi dire che non si può parlare ad esempio tutti quei discorsi nella mailing list perché l'argomento che si sta trattando non si è assimilato a livello di coscienza? Michel, no, perché non tenete conto dell'unitarietà dell'individuo, continuate a considerare l'individuo a settori, c'è la parte astrale, la parte mentale, la parte acasica, la parte fisica, ma non esiste la parte, la parte, la parte, c'è l'individuo che è costituito da questa somma e ovviamente mettere insieme tutte queste parti dell'individuo è difficoltoso per tutti voi, questo è ovvio, evidente. Ci sarà chi è più colpito dalla parte fisica, chi più dalla parte astrale, chi più dalla parte mentale, chi più dalla parte della coscienza e ognuna di queste persone cercherà di puntare l'attenzione su questa parte, il bello delle tante discussioni, delle tante opinioni è proprio quello che c'è la possibilità di fondere tutti gli elementi che uno non vede perché gli interessano meno.